In città raccontano la storia della ragazza della palude, cresciuta da sola nella natura selvaggia. Ma non mi hanno mai conosciuta davvero. Come in quasi tutte le storie, i fatti non hanno peso. Non sapevo come vivere. Era meglio imparare dalla palude. Signorina Kaia. Ho sentito che compri le cozze. La palude mi ha insegnato a sopravvivere, ma non poteva insegnarmi tutto. Non puoi vivere qui per sempre. Lo vedremo. D'accordo. È pericoloso vivere qui da sola. Sto bene. Sei davvero straordinaria. Katrin Clark è accusata dell'omicidio di Chase Andrius. L'accusa chiederà la pena capitale. Io devo uscire da qui. In un modo o nell'altro. sta' attenta. Te ne stai laggiù sempre da sola. Non vivrò nella paura. Niente orme né impronte digitali. Niente. Qualcuno ha distrutto le prove. so che hai un'infinità di ragioni per odiare queste persone. Non ho mai odiato quelle persone. Loro mi odiavano. Dovrei supplicarle per salvarmi la vita. Non lo farò. E il mondo è pericoloso, no? Non so se la natura abbia un lato oscuro. O modi creativi per resistere. Contro ogni previsione. Non so se la natura abbia un lato oscuro.